Eccoci finalmente arrivati alla partenza del nostro viaggio per Stoccolma e vi ricordo l'hashtag al Nobel con papà. Ah scusate, mia moglie, vi dispiace se rispondo un attimo? Sì, dimmi. Dove sei? Sono in macchina con papà e Lucrezia. Eh, buona quella. Siamo in viva voce. Ciao bella, dove stiamo andando? Stiamo andando a Stoccolma. Ah, la saluetta. È una medaglia. Stasera siamo ospiti di un'amica di suo padre. Giovanni! Greta! Caro, caro, caro. Ma una sana scopata è quasi sempre meglio. Papà, dove siete? Siamo per arrivare a Copenhagen. Ma che fate? Non vi abbracciate? Eh sì che ci abbracciamo. Ma questo, una curiosità che a questo punto è lecita. Dove stiamo andando? Una sorpresa.